ciao a tutti oggi prepareremo la mousse al mandarino il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa ingredienti sono succo di mandarino tuorli d'uovo zucchero amido di mais panna fresca per dolci e zucchero a velo diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame mettere lo zucchero a velo e la panna fresca per dolci che abbiamo messo per 45 minuti in congelatore la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5 la panna è ben montata trasferiamola in una ciotola senza lavare il boccale mettere lo zucchero e i tuorli ed azioniamo il bimbi per 5 minuti a velocità 4 nel frattempo riporre la panna in frigo aggiungere l'amido di mais il succo di mandarino il succo di mandarini ed azioniamo il bimbi per 7 minuti 90 gradi velocità 4 lasciare raffreddare completamente il composto il composto si è raffreddato versiamolo nella ciotola con la panna amalgamiamola con la spatola trasferiamola in delle coppette e servire mousse al mandarino grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti